ciao amici benvenuti in questa nuova puntata della serie come fare soldi online senza sapere nulla di marketing io sono marco doria il marketer più scorretto della rete e anche oggi ti insegnerò a sfruttare i desideri di mercato per arricchire le tue tasche nel tutorial di oggi andremo a vedere come fare soldi con una categoria che sta facendo molto parlare in questo periodo proprio dopo un'inchiesta della trasmissione alle iene loro sono intelligenti come un posacenere e interessanti da ascoltare come un trombone stonato il mattino fastidiosi come una mosca mentre stai mangiando e fuori ci sono 40 gradi non hai neanche il condizionatore acceso signori sto parlando di loro la categoria di analfabeti funzionali per eccellenza i terra piattisti come ben saprai i terra piattisti sono quelle persone convinti che la terra non sia sferica ma bensì sia piatta proprio come il loro cervello quindi andiamo dal nostro caro amico google e iniziamo le ricerche per riempirci le tasche con questa categoria alla fine del diciannovesimo secolo uno dei primi sostenitori della terra piatta fu un certo william carpenter che pubblicò un libro 100 prove che dimostrano che la terra sia piatta nel 1956 samuel shenton creò la flat earth society la posizione della società fu che il programma spaziale fosse una montatura e gli sbarchi lunari sulla luna fossero stati creati proprio da qualche potere forte per illudere il popolo per ingannare la opinione pubblica ottimo qui si sottolinea che qualche potere forte stia tramando qualcosa per ingannare il popolo puzza proprio di complotto questa cosa quindi per andare a scavare meglio in questo target andiamo a studiarci qualcosa sul complottismo per complottismo si intende teorie alternative più complesse elaborate secondo le versioni fornite dalle fonti ufficiali in sostanza basta prendere un fatto accettato e riconosciuto dall'opinione pubblica e crearne una versione negativa sottolineando qualche segreto qualche coincidenza e infine inserendoci dentro un bel motivo politico per controllare le masse facciamo un esempio il caffè espresso è una bevanda molto consumata in italia mi basterebbe far emergere che il caffè espresso sia meno costoso di una bottiglietta d'acqua per far emergere qualche dubbio e se l'acqua che ha un semplice processo di imbottigliamento è più costosa di una bevanda che ha tutto un processo di semina raccolta tostatura macinatura distribuzione esportazione eccetera chi mette quei soldi perché uno stato ci tiene una bevanda come il caffè che è molto usata a un prezzo inferiore a quello di una bottiglietta d'acqua perché stanno facendo questo non ti sembra strano non ti sembra una coincidenza chi controlla le lobby del caffè e perché proprio il caffè come mai il paese dove il caffè espresso più consumato nel mondo è anche il paese che meno si ribella quando c'è qualche manifestazione politica coincidenze ecco creata una bella teoria del complotto benissimo questa cosa mi fa sentire già il rumore del denaro che transita dal loro conto in banca al mio i terapeutisti sono persone convinte di custodire un segreto che le persone non conoscono di avere scoperto un qualcosa che la maggior parte delle persone nemmeno sa quindi per dare qualcosa di prezioso a questo target dobbiamo dargli delle informazioni un infoprodotto un libro sarebbe l'ideale in questo caso però optiamo per un bel libro quindi per monetizzare il nostro prodotto partiamo come al solito dal lead line ovvero in questo caso il titolo la parte più importante del nostro prodotto la cosa più importante che dobbiamo far emergere che un potere forte che non nomineremo mai rimarranno sempre loro non vogliono farci emergere una verità quindi in questo caso utilizzeremo il titolo volevano farmi tacere che è strepitoso per questo tipo di categoria infatti loro riconosceranno subito un problema guarda se lo volevano fare tacere perché ci stava dicendo una verità quindi stanno facendo di tutto per mettergli un cerotto in bocca con queste tre parole dovremmo essere riusciti a catturare l'attenzione del target ti ricordo che le line come il titolo di un libro servono per attirare l'attenzione del target e servono anche per fargli dire ok leggi la riga più in basso questa è la funzione delle line in qualsiasi situazione di copywriting ora procediamo con il sottotitolo del nostro libro e andiamo a dare il colpo di grazie al nostro target la conseguenza sarà che letto il titolo volevano farmi tacere devo leggere un qualcosa che mi introduca all'argomento siccome il nostro target ovvero i terra piattisti alla fine sono dei semplici complottisti andremo in maniera semplice a parlare di complotto e lo andremo a ingigantire il titolo finale sarà volevano farmi tacere il grande complotto mondiale semplice ed impatto come dovrebbe essere un titolo d'effetto ora andiamo a creare la grafica del libro dobbiamo sempre mantenere degli ingredienti in qualsiasi cosa andiamo a fare con questo target gli ingredienti sono oscurità mistero segreto buio ombra quindi la cosa ideale sarebbe raffigurare una persona che si nasconde un po nell'ombra che non vuole rivelare la sua identità quindi ci basterà cercare la prima immagine che troviamo di un uomo magari incappucciato che si nasconde un po nell'ombra e intorno creeremo la storia di una persona che non vuole rivelare la sua identità ma che mantiene una sorta di anonimato per paura che i poteri forti lo possano schiacciare quindi trovato un nome di fantasia andiamo a sfruttare un plugin di photoshop per creare una simulazione di una cover di un libro ed ecco il risultato finale volevano farmi tacere il libro che svela il segreto del grande complotto mondiale ora come da tradizione andiamo a creare lo spot per andare a vendere il nostro libro sui social per girare questo video mi basterà abbassare le luci quindi mantenere sempre quel senso di ombra scura e mistero mettermi una maglietta col cappuccio e girarmi di schiena in questo modo sembrerà che io sia impaurito dal mostrarmi la telecamera ma comunque sto mantenendo l'alone di mistero che serve al target per eccitarsi ricordati sempre che il contenuto di marketing è la cosa più importante più importante del prodotto stesso quindi in questo caso ci dovremo andare giù pesante con le affermazioni in questo spot butterò di mezzo la massoneria i templari la setta degli assassini i ninja le case farmaceutiche la lobby delle sementi e per finire non può mai mancare un bello omicidio dei kennedy inventerò la storia che ho trovato queste informazioni su testi proibiti e libri sacri inserirò un po di pressione come al solito per far sedere l'ansia alle persone di comprare subito quindi urgenza e andrò a creare un pricing leggermente più alto dei prezzi dei libri che solitamente stanno sui 20 euro in questo caso inseriremo un pricing di 39 euro ma come al solito creeremo un prezzo molto più alto quindi 59 euro e poi andremo ad abbassarlo se lo compri subito in questo caso creato scarsità perché comunque devi potresti non trovarlo più è urgenza perché il prezzo è solo per oggi per la colonna sonora del video ti basterà scaricare la prima musica epica di merda che trovi con le royalty free su youtube non sarà necessario fare una ricerca approfondita della musica perché tanto il target sarà eccitato del suono del violoncello e accorrerà a comprare subito al nostro prodotto soltanto per la musica di sottofondo ed ecco qui il risultato finale del nostro spot il loro scopo è nascondere la verità per controllarci e manipolarci le case farmaceutiche controllano che malattie dobbiamo avere quanto dobbiamo pesare e quanti anni dobbiamo vivere le lobby dell'agricoltura controllano e manipolano i geni delle sementi i fabbricanti di armi decidono quali popoli devono essere distrutti tutto questo fa parte del grande complotto iniziato nel periodo templare per mano della massoneria i documenti rivelano che in quell'epoca la setta degli assassini consegnò il sacro graal ai templari per non farlo finire in mani sbagliate il sacro graal era il simbolo del potere per eccellenza e faceva gola a molti i templari ricchi e potenti erano le persone adatte a custodirlo ma improvvisamente nel 1312 un misterioso concilio di poteri forti sciolse l'ordine dei templari e accusò loro di eresia essi si arresero senza prestare resistenza andando incontro a morte certa molto strano tutto questo vero ebbene questo fu l'inizio del grande complotto ci hanno sempre controllato e nascosto la verità passando dai templari ai ninja dall'area 51 all'assassinio di kennedy dalla creazione di malattie in laboratorio fino ad arrivare ai terremoti artificiali e agli sbarchi lunari inventati in questo libro frutto di ricerche su antichi manuali proibiti e testi sacri sveleremo le verità che le persone oggi hanno diritto di sapere il giorno della verità è arrivato loro non vogliono che tu sappia e sarebbero contenti di mettermi a tacere ed è per questo che come vedi nascondo la mia identità quindi affrettati prima che sia troppo tardi la verità è un tuo diritto acquista volevano farmi tacere il libro che svela il segreto del grande complotto mondiale per la scrittura del libro finale non ti preoccupare fai come ho fatto io per creare questo video di questo spot vai su internet prendi tutte le stronzate complottiste che puoi trovare che puoi conoscere che puoi ricordarti le butti dentro non ti preoccupare perché tanto il target non andrà mai ad indagare ora non ti resta che creare la tua pagina di vendita e far girare questo video sui social per vendere il tuo prodotto se il video ti è piaciuto metti like e suggeriscimi nei commenti il tema del prossimo episodio dal marketer più scorretto della rete è tutto mi raccomando monetizza